Ragazzi mi duole avvisarvi che io e Awed non siamo più amici Abbiamo litigato, non siamo più amici Questa sera alle 21.20 su Italia 1 alle Iene Scoprirete il perché di questa nostra disputa Comunque, visto che molti di voi me l'hanno chiesto soprattutto in questi ultimi giorni Ci tenevo a dirvi che la risposta è sì L'amicizia con Awed purtroppo è finita È stata una persona importante nella mia vita Ma abbiamo preso semplicemente due strade diverse Oggi il 25 novembre ragazzi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne Purtroppo dall'inizio dell'anno ci sono stati 109 casi di femminicidio L'8% in più rispetto all'anno scorso che non sono dati molto rassicuranti Di cui 63 di questi da parte dell'ex o del partner Quindi mai avere paura e sempre parlarne e chiedere aiuto E speriamo in un futuro più roseo Ciao C'è solo una cosa peggiore di Milano nell'ora di punta Milano nell'ora di punta con la pioggia